Allora siamo appena... racconta dove siamo appena stati Matteo. Guarda come siamo tutti neri cupi. A vedere la location della sfilata. Quindi a fare un sopra... luogo. Secondo te siamo avanti indietro? Come siamo? Direi che siamo messi bene quest'anno. Dovevamo venire in motorino solo che Matteo si è presentato tardi. Alla fine abbiamo detto vabbè ho la macchina perché non è che non ce l'ho. E' una scelta. E poi l'autista ha detto guarda Elisabetta che non c'è casino al momento si gira ancora bene. Allora per non rischiare è meglio che andiamo in macchina. E quindi ho convinto anche Matteo a mollare il suo scuterino amato. E adesso stiamo sento dalla casa. Stiamo andando Gretta dove sei? Eccomi. Mi ero nascosta dietro qua perché siamo tutti così. Stiamo andando? Stiamo andando in location come al nostro solito. Non si chiama location. Scusa. Come si chiama? Backstage. Stiamo andando in backstage e come tutti gli anni. No però di l'orario sono le 3 e 40. Cioè la sfilata c'è le 6. 15 e 47. Ma noi alle 3 e 47 stiamo già andando. Non in scooter. C'abbiamo sempre il nostro Luca. Siamo in Mercedes. Sì. Come sempre. Visto che la squadra che vince non si cambia. Andiamo insieme. Viviamo le ultime prove. La prova delle modelle. Quello che voi vedete. Cioè noi in realtà è già tre ore che ci facciamo un mazzo così dietro. perché. E poi c'è della gente che già lì da luna. Quindi quello che voi vedete poi in un'ora e mezza. La stazione che dice. Voi te say che vuoi anche i PD qui non lo si che vince hanno sempre il nostro ruolo? Ma non è così caro. Sì Perché? Grazie a tutti. Grazie a tutti. E io ho detto vabbè sono ancora con la Vistaglia che mi frega, intanto mi faccio vedere con il ciapo la mattina, non è che cambia. E quindi l'abbiamo fatta qua. Bello, è vero backstage, eccolo qua. Allora siamo in tempo reale ragazzi, che ne sono Giovanna? Sono le 18.42. 18.42 guardate che povera fine facciamo noi stilisti, noi guardiamo la sfilata da una tv, ma io prima o poi mi metterò una parrucca e verrò lì davanti con voi. Perché c'è capite? C'è 18.49 diretta, anzi vado anche sopra la diretta e mi stanno facendo dire... Allora siamo in tempo reale. 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 Dove siamo? Dove siamo? Sembra la... La ravicela spaziale? No, la ravicela spaziale era l'anno scorso. Giorgetto, dove sei? Sono una ravicela spaziale. Non ti vedevo, sei scura. Non sai che non mi si vede, ti chiede la luce. Accendete la luce, per favore. Grazie. Grace. Grace, si chiama? Grace. 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 la notte choco la notte la notte choco la notte choco Grazie! 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 Guarda! 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 No vende 30!